Dottori, mi avete spiegato che la fibrillazione atriale è un disturbo molto diffuso del cuore, che si può paragonare forse un po' al motore di un'automobile che riceve benzina in maniera non regolare e quindi la macchina sussulta, procede a scatti. In effetti dopo 4-5 anni è normale che le macchine diano questo tipo di problemi. Ma dottoressa, è possibile dire che anche nell'uomo il principale fattore di rischio per la fibrillazione atriale sia l'età? L'usura del tempo porta a consumare diverse funzioni nell'uomo e nella donna. La rapidità con cui queste funzioni si usurano dipende da quanti altri complici si mettono in combutta per provocare un invecchiamento precoce del cuore. Ci sono altri fattori che possono favorire lo sviluppo della fibrillazione atriale? Le più comuni sono il fumo, la sigaretta, l'obesità, gli squilibri metabolici, l'ipertensione, la malattia coronarica. Ci sono poi anche condizioni in cui la fibrillazione esordisce secondariamente alla presenza di malattia valvolare. Ci sono anche degli episodi di fibrillazione atriale che compagnano nei giovani e purtroppo spesso sono devastanti. I ragazzi arrivano in pronto soccorso con l'ictus e sono legati all'abuso di sostanze stupefacenti. Insomma, mi sembra di capire che non c'è una sola causa, ma un insieme di fattori. Come sempre nelle malattie cardiovascolari. Nella broncopolmonite andiamo a cercare qual è il virus che l'ha provocata. Nelle malattie cardiovascolari dobbiamo identificare la squadra e nei suoi componenti e possibilmente batterli e neutralizzarli uno per uno, a partire da quello che è più semplice neutralizzare. Dottore, qual è il rischio principale che corre mia mamma se trascura di curarsi? Per quanto riguarda il cuore, se l'aritmia persiste senza essere trattata, può portare a dei danni funzionali e poi strutturali del cuore stesso che portano alla dilatazione delle cavità cardiache e alla perdita di efficienza del battito cardiaco. Questo processo si chiama rimodellamento. L'aritmia poi determina una alterazione del flusso sanguigno nel cuore e quindi la formazione di trombi che mobilizzandosi, andando in circolo, diventano emboli e ostruiscono le arterie. Dottoressa, come si formano i trombi? Il sistema della coagulazione del sangue è un sistema estremamente sofisticato nel quale intervengono moltissime molecole che sono chiamate enzimi. Ci sono fattori che lo fanno coagulare, chiamati però coagulanti. Ci sono fattori che lo trattengono dal coagulare troppo che sono gli anticoagulanti naturali. Ci deve essere equilibrio fra queste due squadre e ci deve essere comunicazione. Il rischio grande è che corre il paziente che fibrilla, soprattutto il paziente che fibrilla e non se ne accorge, quindi non si fa curare perché non lo sa, è di avere un ictus cerebrale o un'embolia periferica causata da un embolo che si forma nel cuore, parte e attraverso la circolazione arteriosa arriva o alle arterie delle gambe o peggio ancora al cervello, provocando degli attacchi schemici transitori o degli attacchi schemici permanenti che si chiamano ictus. Ci sono malattie nelle quali la donna, soprattutto ma anche l'uomo, tende a dire porto pazienza, passerà. Con la fibrillazione questo non si può fare perché nel periodo in cui portiamo pazienza e forse passerà, può darsi che non passi e allora la conseguenza è molto grave perché l'ictus cerebrale è una conseguenza che può essere mortale ma è forse ancora peggio quando non è mortale e lascia invalidità. È curabile, dottore? La fibrillazione è certamente curabile con diversi presidi terapeutici, a volte si tratta di farmaci o in altri casi vi sono interventi specifici. Che cosa succede se queste cure non riescono a riportare il cuore di mia mamma nel ritmo giusto? Si deve puntare a controllare la frequenza del battito, pur rimanendo l'irregolarità della ritmia bisogna mantenere la frequenza del battito il più possibile all'interno della frequenza che normalmente è presente nel ritmo sinusale.